Una telefonata improvvisa di nuovo. Allora iniziamo ancora adesso destra e sinistra con la testa. Destra, inspiro dolcemente al centro, poi a sinistra. Destra, centro, sinistra. Destra, centro, sinistra. Ancora due. Destra, sinistra. Destra, centro, sinistra. Destra, dolcemente rotazione della testa, prima in un senso, poi nell'altro. Parto da destra e vado verso sinistra. Ok, là giù. Uno. Due. Tre. Quattro. E cinque. Adesso sinistra verso l'estero. Uno. Due. Tre. Quattro. E cinque. Anni sui fianchi. Rotazione del busto. Destra, sinistra. Destra, inspiro. Bene respiro. Poi espiro al centro. Inspiro a sinistra. Espiro al centro. Ancora. Ancora uno. Sinistra. Stessa posizione delle gambe. Braccio in avanti. Muoviamo le dita. Dieci secondi. Uno. Due. Otto. E dieci. Piccoli movimenti con i polsi. Uno. Due. Tre. Otto. E dieci. Adesso al contrario. Uno. Due. Tre. Otto. Nove. E dieci. Piccoli movimenti delle braccia. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. E dieci. Sciogliamo un attimo. Con due braccia completo. Cinque in avanti e cinque indietro. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Contrario. Uno. Due. Tre. Quattro. e cinque. Ok. Passiamo alle gambe. Prima fuori la destra. Avanti e indietro. Poi la sinistra. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Adesso in avanti. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Indietro. Uno. Due. Tre. Quattro. E cinque. Sinistra. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. In avanti. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Indietro. Uno. Due. Due. Quattro. E cinque. Sciogliamo un attimo. Alziamo di qualche centimetro il piede della gamba destra. Cominciamo. Piedi su e giù. Su e giù. Su e giù. Ancora due. Uno. E due. A destra e a sinistra. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Piccola rotazione in un senso. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Cambiamo. Via. Contrario. Quattro. Cinque. Gamba sinistra su. Piede. Su e giù. Su. Giù. Su. Giù. Su. Giù. Adesso. Destra. Sinistra. Destra. Sinistra. Destra. Sinistra. Ancora due. Destra. Sinistra. Piccola rotazione in un senso. Adesso nell'altro. Cinque. Ok. Movimento sul posto. Gambe leggermente divaricate. Braccia in avanti. Chiudiamo e apriamo. Palmo in giù. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Otto. Nove. E dieci. Braccia in fuori. Uno. Due. Otto. Nove. E dieci. Sulla punta dei piedi ci estendiamo bene. Su. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. E dieci. Rotazione completa delle braccia. Via. Uno. Due. E tre. Uno. Due. E tre. Palmo in su. Via. Uno. Due. Due. Nove. E dieci. Braccia in fuori. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. E dieci. Su. Palmo in dentro. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. E dieci. Rotazione completa delle braccia. Via. Uno. Due. E tre. Uno. Due. E tre. Mani dietro la nuca. Un bel respiro. Un bel respiro. Cerchiamo di toccare i gomiti. Via. Uno. Due. Otto. Nove. E dieci. Pronti ancora? Un altro. Via. Uno. Due. E dieci. Ci sciogliamo un attimo. Facciamo un po' di nuoto. Prima stile. Poi d'orso. Pronti? Via. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. E dieci. Adesso un po' di dorso. Pronti? Via. Uno. Due. Tre. Quattro. Otto. Nove. E dieci. Adesso andiamo a prendere il nostro bastone. Ok. Qualche attimo in modo che tutti. Siete pronti? Ci sciogliamo un attimo. Teniamo il bastone verso il torace. Lo spingiamo in avanti. Via. Uno. Uno. Due. E tre. Quattro. Cinque. In su. Uno. Due. E tre. Quattro. Cinque. Adesso dietro la nuca. Pronti? Via. Uno. Uno. Due. Due. Tre. Quattro. E cinque. Sciogliamo un attimo. Ancora. Sotto il torace. In avanti. Uno. Due. E tre. Quattro. Cinque. In su. Uno. Due. Due. E tre. Quattro. Cinque. Dietro la nuca. Pronti? Uno. Due. Due. E tre. Quattro. E cinque. Sciogliamo un attimo. Adesso facciamo una prova perché è la prima volta che fa ginnastica con noi. Allora alziamo la parte destra. La portiamo dietro la testa. Alzo la sinistra. E mi riporto al punto di partenza. Poi sinistra. Sinistra. E mi vengo davanti con la destra. Facciamo un altro di prova. Destra. Alzo. Passo dietro la testa. e con la sinistra vengo davanti. Sinistra. Uno. Due. Tre. E quattro. Se siamo pronti partiamo. Prima destra e poi sinistra. Uno. Due. Tre. Quattro. Sinistra. Uno. Due. Tre. E quattro. Destra. Sinistra. Destra. Sinistra. L'ultimo. Destra. Sinistra. Ok. Lasciamo il bastone. Adesso facciamo un po' di esercizi per le gambe. Pronti? Prima la sinistra e poi la destra verso il torace. U. No. Due. 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 E dieci. Rotazione completa del bacino. Prima in un senso, poi nell'altro. Uno. Due. E tre. Cambio. gambe leggermente divaricate braccia in avanti flessioni sulle ginocchia uno due cinque sciogliamo un attimo e prendiamo sei i sei otto nove e dieci un po' di movimento sul posto adesso facciamo la rotazione delle gambe prima la destra e poi la sinistra via uno due tre quattro e cinque sinistra e cinque riprendiamo con la destra sinistra 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 quattro e cinque adesso facciamo un po' di esercizi a terra prima prima paolo paolo giusto giusto? si ok ok allora portiamo la gamba sinistra verso il torace alziamo la destra 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 alziamo qualche centimetro la sinistra dal tappeto via via uno due tre quattro cinque sei sette otto nove e dieci bel respiro e prendiamo ancora con la sinistra alziamo un pochettino la destra via uno otto nove e dieci passiamo la sinistra passiamo la destra uno due tre otto nove e dieci adesso e portiamo tutti e due verso il torace con i piedi a martello via uno due otto nove e dieci bel respiro riprendiamo ancora uno otto nove e dieci adesso braccia braccia a croce mettiamo le gambe in su piedi a martello testa a sinistra gambe a destra via uno due otto nove e dieci dolcemente testa a destra e gambe a sinistra uno due due otto nove e dieci bel respiro sciogliamo un attimo riprendiamo vediamo sempre tenere i piedi a martello testa a sinistra gambe a destra uno due tre quattro cinque sei sette otto nove e dieci testa a destra gambe a sinistra uno due otto otto nove e dieci si stendiamo portiamo le braccia aderenti al corpo schiena ben appoggiata sul pavimento alziamo tutte e due le gambe qualche centimetro per fare gli addominali rimaniamo in posizione per una decina di secondi via uno due tre otto nove e dieci giù bel respiro su ancora uno due otto nove e dieci ok e adesso ci sediamo prendiamo la gamba destra la mettiamo a cavallo della sinistra poi il braccio destro in fuori il gomito sinistro va a spingere il ginocchio destro via uno due tre otto nove e dieci cambio sinistra a cavallo della destra braccio sinistro in fuori gomito destro spinge il ginocchio sinistro uno due e dieci bel respiro ci rilassiamo un secondo riprendiamo destro sopra sinistro e gomito contro il ginocchio via uno due nove e dieci sinistra sinistra a cavallo del destro e gomito contro il ginocchio uno due tre otto nove e dieci ci rilassiamo un attimo poi cambiamo posizione braccia perpendicolare alle spalle testa in giù e spingiamo in su la schiena più possibile via uno due otto nove e dieci cambiamo testa in su e la schiena concava uno due otto nove e dieci testa in su testa in su schiena concava via uno due otto nove e dieci sciogliamo un attimo portiamo le braccia in avanti un po' staccate un trenta centimetri dalle spalle in avanti ci spingiamo in avanti e le gambe appoggiate bene al pavimento la schiena in su e la testa in su uno due tre quattro cinque otto nove e dieci adesso il contrario testa in giù spingiamo indietro indietro uno due tre quattro cinque sei sette otto nove e dieci dolcemente ci portiamo ancora in avanti appoggiate bene le gambe al pavimento pancia spalle testa in su uno due otto nove e dieci adesso prima come se ci sedessimo su sui talloni via uno due tre otto nove e dieci adesso ci portiamo bene attimo schiena testa facciamo un esercizio che abbiamo fatto settimana scorsa vi spiego il mio intento è quello che se riusciamo di andare a toccare la testa il pavimento con appoggiato il sedere sui talloni se non ce la fate fino a dove arrivate tranquilli piano piano vedrete che riuscirete anche voi allora allunghiamo le braccia in avanti pieghiamo la schiena fino a dove riuscite non forzate la schiena e rimaniamo fermi un minuto questa posizione 겠습니다 qui non forzate la schiena qui Grazie. Grazie. 58, 59, 60. Dolcemente e alzatevi, non di colpo, dolcemente. Ok. Cercate di estendere un po' la schiena. Adesso, per chi vuole e chi se la sente, qualche minuto di stretching. Aspetto ancora un attimo. Pronti? Frecciamo le dita verso l'alto, su. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Adesso a sinistra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Sempre con i diti incrociati, alziamo il palmo verso il cielo. A destra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Sciogliamo un attimo. Gamba destra. Gamba destra in avanti, gamba sinistra indietro. Stendete bene la gamba sinistra. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Gamba sinistra in avanti. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Adesso portiamo la gamba destra che guarda in avanti e la gamba sinistra che guarda di fianco. Dobbiamo far lavorare l'anca. Siete pronti? Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Cambio. Cambia sinistra in avanti e il destro di fianco. Pronti? Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Sciogliamo un attimo. Esercizio di equilibrio. Vendiamo la sinistra. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Cambio a destra. 1, 2, 3, 4, ehi! Ricominciamo da capo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ragazzi, grazie. Un applauso a tutti. Se volete ci vediamo giovedì mattino. Grazie. Grazie.